A stalla vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800, dopo l'ultima missione ragazzi, sempre su Just Cause 3, che si chiamava, la missione si chiamava Il Segreto Divisa Electra, sono venuto qui ragazzi a CimaLeon, mi sono fatto trasportare qui, allora, spero che cambiamo arma, allora, non lo fai su qua, si, certo che va bene, ok. Ok raga, facciamo tutto così, tutto a posto, mi servirebbe un elicottero però raga, ok dai, non è niente, dai Rico, riprenditi, prendiamo questo, ok raga. Ok raga, ci andiamo a conquistare qualcos'altro, assassino aereo, che diavolo è? No, non lo voglio fare l'assassino aereo, voglio fare quello che dico io, allora raga, io direi di iniziare a conquistare la Wanda, tutta la Wanda sarebbe questa, io direi di iniziare a fare, se noi ci troviamo qua, di iniziare a fare questa, per forza, l'antuina. ah, che bello questo castello, ma che bel castello, dirondirondello, dallo, vedi che bel castello, guarda che c'è tu, infatti. Bastato, già la rompiamo torta! Ce ne siamo! Tante città non ci sono mai... Non si è fatta granché la statua! Stiamo facendo un bel po' di cose, raga! Non ci sono niente antenne, niente! Ci devono essere due cartelloni da distruggere, quelli sì! Ci devono essere a forza! Non è una grossa città, quindi non c'è molto da fare! Ho notato, raga! Vediamo un po'... Un cartellone... Sinceramente non lo vedo ancora! Ah, eccolo lì! Ora l'ho visto il cartellone! Uno l'abbiamo fatto! Ok, vediamo che altro... ... La vera giustizia è anonima Andiamo by Devo combinare un cacin da ramadone, ragazzi Abbiamo un bongala Abbiamo un nastro di ravello qua, lo prendiamo Oh merda, c'era l'albero per avanti Ok Ok Ambulanza perare, ragazzi perare E questo? Oh merda, quello è il cammino è blindato Ok, ora non è più blindato Perca miseria, sti bastardi Che cazzo credete di fare? Ok 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 Perfetto Stazione di pulizia abbiamo completato, ragazzi Adesso ci rimane un cartellone, la statua e la macchina che parla diciamo Eccolo Eccolo Ricordate sempre le parole del nostro stimato Ma che ti crede di essere? Ok 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 E' stata bucata la statua. Ok, l'apparaggio militare distrutto. Ok, ora solo il cartellone rimane. Un fottuto cartellone. Vediamo se per caso stanno da questo lato. Andiamo a controllare le entrate della città. I quali vengono messi sempre alle entrate. Ok, allora. Con calma adesso lo troviamo. Inseguimento terminato. Tornate ai vostri posti. Che strano però che non si riesce a trovare. Uno è questo. Che strano. Questa sarà la cosa più difficile. Raga, trovare il cartellone. Che strano. Qui non lo vedo proprio. Ok. Qui non lo vedo proprio. Non lo possono mettere mica internamente. Lo devono mettere esternamente. Ok. Però faccio un giro più avanti. Dove non siamo ancora andati. Un pochettino di qua. Se l'hanno messo di qua. Eccolo lì. Ok. 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 Possiamo andare a mettere la badire finalmente ragazzi a quest'altra città. Lanziamo la bandiera. Il garage di questa città è aperto. Porto i piccoli civili nel garage per raggiungere l'elenco di un ciliberto. Tour via Campania. Ok. Sprint dall'Antuina. Ok. Uno su quattro insediamenti liberati. Direi che lo sta prendendo il controllo di questa provincia. Ok. Perfetto. Un passo verso la libertà. Va bene ragazzi. Io direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima.